Safety School, come è stato già detto, si colloca all'interno del programma molto più ampio della scuola sicura dove sono stati finanziati diversi edifici scolastici e l'adeguamento sismico delle scuole. Abbiamo pensato di ampliare questa sicurezza delle scuole creando delle aree pedonali intorno alle scuole in modo che sia più sicuro l'accesso all'edificio scolastico da parte dei bambini. Vogliamo coinvolgere, ed è necessario che vengano coinvolte anche le famiglie in questo discorso in modo che ci sia un'evoluzione, un cambiamento anche culturale soprattutto. Abbiamo cominciato con dei seminari, abbiamo cominciato con delle informazioni, delle informative da divulgare alle scuole. Lo faremo magari anche meglio quando sarà ben dettagliato e ben definito questo nuovo bando. E quindi coinvolgeremo anche i dirigenti scolastici in modo che si facciano da portavoce ai bambini, alle famiglie e agli insegnanti. Noi funzionari regionali affiancati anche da altri esperti nel settore facciamo proprio delle riunioni all'interno della regione, al Dipartimento Lavori Pubblici ogni martedì, dalle 10 alle 13, ovviamente a previ appuntamento, in modo da consentire ai comuni che vogliono partecipare a questi bambini di esprimere le loro problematiche e poterle risolvere insieme. Grazie a tutti i nostri spettatori